Senatrice, ancora una volta la discarica di pianura per capirci qualcosa su quello che sta succedendo. La situazione della discarica di pianura è molto complessa, perché da un lato abbiamo la discarica legale che ha ricevuto lo sversamento per 40 anni di tutta la regione e che comunque non ha visto una bonifica e ancora stiamo aspettando. Noi su questo abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare sia per il declassamento da Sinassir e sia per lo Stato delle bonifiche, perché ancora si sta provvedendo al 2008 semplicemente carotaggi per avere il quadro della situazione, quindi con una lentezza veramente esasperante, anche perché sappiamo che tutti i fenomeni di degrado ambientale sono progressivi, quindi non è che si fermano nel momento in cui il rifiuto ha cessato di essere riversato. Poi c'è una questione grave di denunce che sono partite perché sembra appurato che ci siano ancora degli sversamenti illesciti su quest'area e questo è gravissimo, perché noi abbiamo un'area sequestrata dove entrano camion a sversare. Poi ci sono altre situazioni da appurare con cui stavamo parlando con Vincenzo, appunto sul progettare Senga dove stiamo adesso camminando, dove probabilmente ci sono delle implicazioni ancora più gravi su dove i rifiuti sversati siano andati a finire e probabilmente ci saranno per una questione di livelli anche delle gravi percussioni in altre aree dove non si è valutato potesse arrivare questo tipo di rifiuto. Io credo che si debba incidere affinché si indaghi e si appuri la situazione. Sono state fatte già delle analisi alla piscina Cardito e sembrerebbe che sia quasi normale? Allora, le analisi alla piscina Cardito avrebbero dovuto riguardare dei carotaggi e il carotaggio chiaramente dà conto di una stratificazione di rifiuto sversato. Quello che è stato fatto alla presenza di alcuni attivisti è stato fatto con prelievo superficiale e questo chiaramente non può essere sufficiente a darci conto dei fatti. Tra l'altro vorremmo avere certezza e conto della questione dei livelli con la piscina Cardito e sapere se poi questi rifiuti abbiano avuto un deflusso in altre aree e il pericolo è che sia arrivato anche nell'area urbana di Pozzuoli dove gli effluvi possono avere anche contribuito a inquinare l'area della cittadina. Questo si può appurare soltanto con delle indagini chiare e specifiche che noi vorremmo venissero fatte perché le ipotesi, anche lo studio delle carte che ci può più o meno mettere al sicuro o più o meno preoccupare non sono sufficienti. Grazie a tutti.